Dopo aver visto tanta bellezza bisogna conoscere la propria età e quindi credo che a presentarsi sia meglio che lo faccia lui direttamente. Alberto De Vecchilaiolo, sì sono il proprietario cosiddetto. Io normalmente amo definirmi il custode protempore perché questi sono luoghi in un certo senso contenitori di memoria storica, di esperienze di tante vite, sono spettatori questi muri, questi giardini di tante vite, ciascuna delle quali ha contribuito ricevendo e apportando in un certo senso al contempo e quindi hanno svolto una sorta di funzione di custode di ciò che c'era ma anche di promozione, di innovazione entro certi limiti di ciò che c'è adesso e che ci sarà nel futuro. Io immagino anche che tutto questo va a vantaggio sicuramente del grande popolo degli appassionati del verde perché restituire alla storia spazi come questi ti posso assicurare in virtù anche di questo termometro che ho attraverso la rivista Gardegna dove scrivo tutti i mesi e mi rendo sempre conto che gli appassionati sono in aumento continuamente quindi poter offrire a loro l'opportunità di visitare luoghi come questi dove c'è una storia che la tocchi con mano, la sieppe di tasso, il cedro sotto il quale siamo è sicuramente qualcosa di molto bello. Ecco io vorrei capire se questo sentimento, questo piacere di restituire il bello a questi grandi appassionati da dove nasce perché anche tu ci sarà una partenza che ti ha spinto a recuperare, a investire tempo, denaro che immagino sia tantissimo. Certo in primo luogo è molto vero, questa attesa, questo desiderio di avvicinare questi luoghi è in costante crescita. Ha avuto degli anni di appannamento, di oblio, quelli della grande spinta economica del mondo occidentale, del nostro paese in particolare, però adesso parallelamente poi se vogliamo ancora di più a questo momento di crisi per il Covid c'è stata un'attesa ancora più spasmodica di momenti di libertà nel verde, nell'apprezzamento della vita, dello sviluppo delle piante, dell'importanza della durata nel tempo anche di questa attenzione. Credo anche che quando si parla, soprattutto in questo momento, ce lo dicono i governanti di turismo di prossimità, ma il turismo di prossimità è questo e l'Italia è un paese che è ricchissimo di situazioni come queste. Non ci sono solo le grandi città, non ci sono solo i musei, per carità va tutto bene, ma ci sono questi piccoli tesori nascosti dietro le mura, dietro una collina, dietro una montagna, dietro una chiesa che uno non immagina neppure, poi entri e ti trovi questi giardini fantastici e soprattutto ti trovi delle proprietà come le tue che ci dedicano, credo, un bel pezzo della propria vita. Certo, questo è il museo diffuso, come si suol dire, l'Italia, il petrolio nascosto, il patrimonio da valorizzare perché è distribuito in modo uniforme in tutto il paese. Perché ci si dedica così tanta passione, così tanto impegno di tempo, di mezzi, eccetera? Ma molte volte non ce lo si spiega, per molto banalmente, fin dall'inizio. Ci si trova in questa condizione di, da un lato, di privilegio, perché non è da tutti poter disporre di queste situazioni, ma dall'altro di vincolo, di impegno, come dire, esistenziale, uso una parola forse successiva, ma sicuramente di impegno morale verso chi c'è stato prima e verso chi verrà dopo. E qui torna il tema della custodia pro tempore. E' tutto molto bello. Io vorrei solo fissare anche degli appuntamenti. Ci saranno delle giornate in cui si fanno dei ritrovi, in cui si invitano le persone e tu hai un calendario sicuramente. Certo, abbiamo un calendario abbastanza ricco. Quest'anno, per ovvie ragioni, tutto è slittato più avanti nelle aperture. Praticamente ogni domenica fino a giugno compreso ci sono aperture con anche eventi di natura culturale, anche perché noi vogliamo porci come polo aggregativo di iniziative varie che si possono svolgere, anzi hanno vantaggio a svolgersi in luoghi belli, luoghi dominati dalla natura, dominati dalla serenità, almeno questo speriamo di poter proporre. Ecco, quindi mancano solo le emozioni che sono quelle dell'apertura, che sono quelle della presentazione di questo magnifico giardino e quindi rivolgendomi agli appassionati di verde, di fiori, di piante, l'appuntamento è fissato. Si può venire a casa Laiolo e trovare questa bellezza di cui io in questa occasione mi promuovo influencer di casa Laiolo, perché ho toccato con mano una vera bellezza. D'altra parte il ruolo anche del maestro giardiniere non è solo quello di insegnare la coltivazione, ma anche quello di educare la bellezza e questo è il luogo giusto.